Musica Buongiorno e bentrovati alla prima edizione della TG6 apriamo con la politica è durato quasi 24 ore l'azzeramento della giunta della regione Abruzzo per le dimissioni ieri di tutti gli assessori oggi l'annuncio del nuovo esecutivo con l'ingresso di Gerosolimo di Abruzzo Civico le deleghe saranno rese note lunedì Francesca Romana Testi tutta la giunta seduta accanto a lui ma con una differenza accanto al governatore d'Abruzzo siede Andrea Gerosolimo manca l'appello come ormai noto Camillo D'Alessandro che arriva a conferenza già iniziata e senza clamori siede tra il pubblico Luciano D'Alfonso legge la nuova composizione della giunta regionale e poi si dilunga in un elenco di attività svolte nel suo mandato e quando qualcuno gli chiede come si sia arrivati ad un accordo con SEL il governatore tira in ballo Machiavelli è la più semplice delle naturalezze che ci sia una dialettica per guadagnare spazi e posizioni lo dice Machiavelli a pagina 152 quando descrive di cosa si tratta la presa del potere, la conservazione e l'aumento sulla scelta di far entrare in giunta Andrea Gerosolimo a discapito di D'Alessandro così risponde alle polemiche dell'opposizione c'è un lato diciamo di antipedagogia che c'è stato che noi risolveremo però accanto a questo profilo di antipedagogia la scomparsa per un giorno di tre consiglieri tant'è che stavo valutando anche di chiamare la polizia postale poi c'è stato un lavoro sincero sulle questioni sul metodo che mi hanno convinto le questioni poste sia sul metodo che sulle vicende aperte e noi siamo qui adesso a sancire un cantiere che durerà per altri 46 mesi con forza, ambizione e straordinaria presa una stoccata poi la rivolge anche a Monticelli considerato uno dei dissidenti che ha dato forma alla crisi Monticelli ha dimostrato disincanto dissacrazione può essere letta anche come una grande libertà l'importante è che sia quel gesto e solo quel gesto oltre questo gesto diciamo c'è l'irriverenza di cui non ha bisogno nella regione e nel Partito Democratico Infine Mazzocca che al termine della conferenza in cui il governatore voleva mettere a tacere le voci di crisi in giunta afferma che a tutt'oggi non ha accettato la carica di sottosegretario e che non intende cedere il suo assessorato all'ambiente non so se a me è sfuggita qualcosa ma credo che oggi di sottosegretario non si sia parlato mi sembra ho letto anche il decreto che avete anche voi provatelo a leggerlo voi e non ci sia non abbiamo mai fatto problemi di poltrone è la nostra storia che lo dimostra è la nostra cultura che ce lo impone noi possiamo essere utili quando c'è la possibilità quando ci viene data la possibilità di essere utili verificheremo se questa possibilità concretamente ci sia o ci sarà non appena abbiamo finito questo periodo di verifica e di ascolto della cittadinanza brunzese ed ora parliamo di lavoro i dati sulla disoccupazione in Italia relegano la regione adriatica al primo posto della classifica un dato positivo secondo la CISL che spiega come la fiducia nella ripresa faccia riemergere i lavoratori irregolari sentiamo notizia di qualche giorno fa quella dell'Abruzzo che si guadagna il primo posto nella dolorosa classifica delle regioni più toccate dalla disoccupazione un dato scoraggiante e contraddittorio rispetto all'annuncio della ripresa in corso nella nostra regione dati contraddittori che invece i sindacati colgono come positivi perché i dati come spesso avviene necessitano di interpretazione e in questo caso la spiegazione la fornisce il segretario regionale CISL Maurizio Spina l'Abruzzo c'è una ripresa debole che ancora non si consolida e che vede alcune contraddizioni che però vanno lette nel loro insieme aumenta l'occupazione di 8.000 unità cresce il numero delle persone che si iscrivono alle liste di collocamento portandoci una media superiore a livello nazionale perché gli scoraggiati incominciano a credere che forse un lavoro si può trovare più fiducia nel lavoro e conseguente riemersione nel novero dei cercatori di occupazione un dato molto positivo secondo Spina che ricorda il nocivo fenomeno del lavoro in nero quello che sfugge dai dati l'altro dato è anche importante diminuisce le ore di cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria quindi segnali di ripresa ci sono in quali settori l'industria regge quindi l'industria in positivo anche per la prima volta in questo secondo trimestre l'edilizia aumenta l'occupazione di 8 mila unità ci sono due settori che sono in forte difficoltà a partire soprattutto dal commercio che però può trovare nuovo slancio se noi il 16 con D'Alfonso riusciremo a costruire queste risposte da dare al governo sul mezzogiorno e quindi sulle politiche da fare nel sud dove l'Abruzzo è presente e riusciremo a attivarle in tempi rapidi Passiamo alla cronaca i carabinieri di Tagliacozzo hanno trovato la pistola con cui è stato ucciso giovedì scorso Marco Callegari buttafuori di 46 anni l'arma era in una casa disabitata vicino all'abitazione del presunto omicida Pietro Catalano di 47 anni detenuto nel carcere di Avezzano da ieri con l'accusa di omicidio volontario insieme alla pistola è stato trovato anche un fucile a canne mozze intanto il PM ha affidato l'autopsia sul corpo della vittima all'anatomo patologo Cristian Dovidio nuova denuncia da parte del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari questa volta l'attenzione è puntata sullo stato di degrado del reparto di anatomia patologica dell'ospedale civile di Pescara ascoltiamo una, due, tre ce ne sono molte altre si tratta delle foto scattate dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari in visita al reparto di anatomia patologica di Pescara da lui stesso definito inferno nascosto muri completamente rotti ammalorati calcinacci per terra infiltrazioni d'acqua voraggini aperte nelle pareti e nei pavimenti materiale ammassato dappertutto una situazione di insalubrità sicuramente diffusa il reparto abbiamo degli spazi molto ristretti apparecchiature allocate in spazi a mio avviso non idoni fili elettrici sopra i tavoli dopo tutto questo inferno dobbiamo denunciare che all'interno dell'ospedale di Pescara da tre mesi non funziona il macchinario di radioterapia e i poveri malati oncologici che vanno lì per curarsi si sentono rimandati indietro perché questo macchinario non funziona manca un pezzo e non riescono a ripararlo in più ci sono tanti reparti forniti di infermieri e di operatori sociosanitari che stanno all'interno degli uffici amministrativi una situazione di grave abbandono in alcuni casi come mostrano le foto dentro a stanze chiuse con lucchetto spuntano macchinari ancora imballati la politica è assente i politici devono mettere in atto queste operazioni di verifica di indagine di controllo altrimenti non si potranno mai rendere conto quanto pianificare e programmare si tratta dell'ennesima denuncia da parte di Pettinari che oggi chiede che vengano destinati immediatamente fondi per l'adeguamento del reparto e non alla realizzazione di nuove strutture come quella destinata ai nuovi uffici della regione Abruzzo non possiamo lasciare che nei seminterrati dell'ospedale di Pescara ci sia una scena da ospedale di guerra non è possibile quindi soldi soldi non per le strutture che a nostro avviso non servono ricordiamo tutti che io tempo fa denunciai milioni di euro che sono stati spesi per acquistare uffici di staff e amministrazione che a nostro avviso non servivano perché i soldi vanno impiegati per queste strutture per questi reparti di vitale importanza molto semplici Posto fisso della Polizia Municipale lotta all'abusivismo sono queste le priorità per i consiglieri comunali della lista Teodoro dopo gli ultimi accadimenti di cronaca nera in via caduti per servizio nel quartiere Fontanelle il servizio di Paolo Renzetti Consigliere Teodoro la questione Fontanelle l'ordine pubblico nel quartiere è un problema sempre più grande gli ultimi fatti ripropongono all'attenzione dell'opinione pubblica proprio il problema sicurezza Sì questo è il primo punto e questo è quello che molti cittadini hanno chiesto direttamente al sindaco venerdì scorso e a me che eravamo presenti in quell'assemblea e immediatamente il sindaco si è adoperato affinché con tutte le altre istituzioni in prefettura con il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico si attivassero tutte le iniziative necessarie affinché si possa mettere un freno a una situazione che in questo momento sta toccando veramente il degrado profondo C'è anche un problema di abusivismo in alcuni appartamenti e molti sono tornati a chiedere da più parti l'istituzione di un presidio fisso della Polizia Municipale Allora il presidio fisso della Polizia Municipale noi ce l'abbiamo anche se poi il servizio è ridotto solo al sabato mattina stiamo predisponendo abbiamo già avuto con il sindaco un colloquio con il comandante affinché ci sia la possibilità di ampliare il servizio nel leader di tutta la settimana nel periodo settimanale ma questa cosa la dobbiamo anche fare con le altre istituzioni in forza dell'ordine perché come sapete benissimo la Polizia Municipale non è un soggetto che si occupa di ordine pubblico ci spostiamo a Teramo a pochi giorni dallo sciopero degli operatori ITEAM previsto per i giorni 15 e 16 settembre indetto dai sindacati interviene il consigliere comunale del Partito Democratico Manola Di Pasquale che accusa la giunta Brucchi di non aver mai trovato una soluzione a riguardo ecco perché di nuovo lo sciopero ascoltiamo Manola Di Pasquale il 15 e il 16 settembre è previsto un'altra azione di sciopero da parte degli operatori della Teramo Ambiente quindi di nuovo i rifiuti saranno in strada in realtà il Comune non ha mai messo mano realmente alla Teramo durante questi anni ne ha affrontati in maniera molto seria e concreta le problematiche che ha sia con riferimento ai servizi che svolge e come li svolge e sia con riferimento agli operatori che lavorano nell'ambito di questa struttura non è da tempo che noi diciamo che la Teramo ha 5 operai ogni un impiegato e che è una proporzione errata per cui non si riesce a svolgere al meglio il servizio pur avendo un costo elevatissimo sul personale in realtà come sappiamo le aziende hanno di media 10-15 operai ogni impiegato era un equilibrio che andava rivisto e ristrutturato prima del bando su cui sta lavorando il Comune che finalmente viene effettuato si confide e si spera che il bando possa essere fatto velocemente e che possa intervenire il cosiddetto operatore privato che porta il nuovo industriale e che quindi riveda una ristrutturazione interna della Teramo in modo che tutti i complessi dipendenti degli operai si vedono tutelati i loro diritti e che possono lavorare al meglio dando una risposta altrimenti al cittadino che paga tantissimo come tassa cioè noi abbiamo una tari altissima per cui è indispensabile che poi il servizio venga svolto per il prezzo che noi paghiamo come vede l'opposizione questa azione di sciopero da parte degli operatori TAM è chiaro che gli operatori fanno valere i loro diritti e lo fanno valere nel mondo in cui li riconoscono dello statuto dei lavoratori non si può criticare chi sciopera bisogna capire le motivazioni di uno sciopero a risolvere il problema Licio Di Biase annuncia il suo ingresso nel centro democratico di Bruno Tabacci l'annuncio è arrivato questa mattina nel corso della presentazione del suo ultimo libro I giorni di Aldo Moro Un libro sui giorni di Aldo Moro Licio Di Biase presenta la sua ultima fatica quale storico e appassionato di politica con i suoi 40 anni di vita in amministrazione pubblica Il rapporto tra il pensiero di Moro e le scelte del paese Moro è stato protagonista dall'apertura della DC ai socialisti con l'avvio del centro-sinistra all'inizio degli anni 60 poi l'attenzione a una sinistra che era quella anche comunista per creare le condizioni per un'alternanza nel paese quindi diciamo che dal libro emerge proprio questa la vicinanza del pensiero di Moro alle scelte del paese negli anni 60 e 70 Il libro è anche una buona occasione per tracciare paralleli e analisi dell'attuale situazione politica del paese e ancora di più di Pescara dove il suo ultimo incarico è stato quello di presidente del consiglio comunale innanzitutto bisognerebbe rifare la politica perché oggi non è più la politica pensata la politica meditata la politica programmata oggi è la politica della contingenza della scelta momentanea infine un annuncio quello dell'adesione al centro democratico di Bruno Tabacci che lui stesso definisce suo punto di riferimento questo mi fa piacere che Riccio riprenda un impegno diretto nella politica di Pescara dell'Abruzzo perché ha un'esperienza importante che certo potrà portare un contributo alla politica nazionale quindi io sono molto contento sono venuto non solo per presentare il suo libro su Aldo Amore del quale aveva scritto la prefazione ma anche per sancire questa alleanza che mi sembra un elemento importante in una fase abbastanza delicata della politica italiana Cambiamo decisamente argomento lunedì al via il nuovo anno scolastico tra rincari dei ticket trasporti e prescuola le iscrizioni all'Aquila non sono in calo il licenziamento delle educatrici però non è ancora risolto Germana Dorazio l'avvio dell'anno scolastico è fra luci e ombre nel capoluogo d'Abruzzo in seguito alla diaspora degli studenti aquilani dovuta al sisma e al settimo anno in classe nei moduli provvisori a questo si aggiunge la chiusura di due asili nido su tre e la vertenza delle educatrici licenziate all'Aquila quest'anno c'è stata anche la stangata dell'aumento per i servizi di mensa trasporto prescuola e interscuola nonostante ciò però la richiesta da parte delle famiglie non è scesa anzi secondo i dati forniti dall'assessore comunale per il diritto allo studio Emanuela di Giovan Battista fino allo scorso 24 agosto le richieste pervenute per l'acquisto di buoni pasto passati da circa 52 euro a blocchetto a 70 sono state in 988 ma continuano ad arrivare anche in questi giorni nessuna flessione neanche per il servizio trasporto con 775 domande ed una capienza fino a 800 alunni sono invece 652 circa le istanze per il servizio di prescuola e interscuola per i quali si paga una retta di circa 200 euro nelle scuole materne e primarie è stato esteso il servizio di sporzionamento i pasti caldi il luogo del vassoio monoporzione l'amministrazione comunale si prepara ad avviare l'iter per la nuova gara del servizio mensa in scadenza nel marzo 2016 mentre è stato già pubblicato il bando per il trasporto sull'avvio dell'anno scolastico pesa anche l'avvertenza delle 14 educatrici degli asili nido per la soluzione della quale il comune ha studiato un piano C la giunta comunale ha l'obiettivo infatti di adottare un atto di indirizzo che autorizzi gli uffici a pubblicare un avviso per titoli teso ad assumere educatrici per il nido stilando una graduatoria è una soluzione che ci darebbe la possibilità di scavalcare il famoso problema della proroga oltre 36 mesi è una riflessione dell'aggiunta quindi un atto politico che l'aggiunta condivide perché ci consente di mantenere gli asili pubblici che era ovviamente oltretutto l'indirizzo politico a cui l'aggiunta non voleva sicuramente rinunciare e sempre sull'argomento scuola i consiglieri comunali di Pescara della lista Teodoro Massimiliano Pignoli e Pier Nicola Teodoro hanno scritto una lettera al governatore Luciano D'Alfonso e all'assessore all'istruzione Marinella Sclocco per chiedere di pristino dei fondi di 185 mila euro per i rimborsi per l'acquisto dei testi scolastici delle famiglie bisognose consigliere Pignoli avete scritto una lettera come gruppo della lista Teodoro alla governatore della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e all'assessore regionale alla pubblica istruzione Marinella Sclocco per richiedere il ripristino dei fondi per i libri scolastici dei cittadini di Pescara Sì è vero siamo stati inondate delle richieste da parte di famiglie bisognose che a tutt'oggi non riescono ovviamente a attuare la questione del rimborso che ogni anno il Comune di Pescara faceva perché manca praticamente i soldi da parte della regione circa 200 mila euro per cui questa mattina abbiamo fatto una conferenza stampa per rendere pubblica una lettera che io e il collega Teodoro abbiamo scritto al Presidente della Giunta regionale e alla consigliera Assessore Marinella Sclocco per mandare questi soldi al Comune in modo che gli uffici possano iniziare le pratiche per quanto riguarda il rimborso c'è una fetta di cittadinanza che si sta rivolgendo alla Caritas ma la fetta più grande è quella che ci preoccupa di più ed è quella relativa ai genitori che sono costretti a mandare i propri figli a scuola senza libri tenete presente che l'anno scorso dati alla mano sono stati tra quelli che hanno avuto la gratuità e quelli che hanno avuto il rimborso per quanto riguarda la compartecipazione al Comune di Pescara sono circa 1500 studenti pari al 30-40% della popolazione studentesca residente a Pescara all'Aquila incontro in Comune per un piano di ristrutturazione su albergo stello e cancelli le vergogne che vengono presentate ai turisti montani servizio di Antonella Calcagni il risponso dei tecnici sulla possibilità di manutenere l'impianto delle fontari e quindi riaprire la stagione scistica nei tempi arriverà solo fra qualche giorno intanto ieri in un summit fra il sindaco dirigenti e vertici del centro turistico sono state poste le basi per una riabilitazione del Gran Sasso eliminando le vergogne affinché possa essere fruito 365 giorni l'anno e non solo d'inverno sta per approdare in giunta una delibera che prevede la realizzazione di 120 posti auto nel piazzale di Campo Imperatore con un costo di 5 euro per stallo l'ora un ticket volutamente elevato al fine di invogliare i visitatori a prendere la funivia ha spiegato il sindaco Massimo Cialente previsti comunque sconti per le famiglie al via anche la realizzazione dei sottoservizi in quota sono state trasferite le risorse di 1 milione e 200 mila euro per l'acqua metano interramento dei cavi elettrici e la fibra ottica che sarà al servizio delle strutture ricettive ma anche dell'INFN e dell'osservatorio astronomico ancora entro la fine del mese sarà pronto il progetto definitivo per la ristrutturazione dell'ostello del Gran Sasso che ora versa in condizioni pietose dell'hotel Cristallo individuato anche il RUP per la progettazione della parte strutturale e impiantistica dell'albergo di campo imperatore si sta procedendo sempre secondo quanto riferito dal sindaco alla realizzazione di un campo sportivo ad assergi da destinare ai ritiri delle squadre di calcio si è messa in moto anche la diplomazia per risolvere la questione delle aree SIC che di fatto impediscono lo sviluppo compatibile del Gran Sasso abbiamo scritto alla regione ha spiegato il sindaco per chiedere di rivedere al più presto la zonizzazione escludendo la stazione del Gran Sasso l'unica in Abruzzo dalla perimetrazione dei siti di interesse comunitario è chiaro che si è trattato di un errore restiamo all'Aquila il montacarichi posto all'ingresso della nuova sede comunale in centro storico non funziona e l'ascensore giace chiuso e inagibile Palazzo Fibioni è così completamente inaccessibile per i disabili il servizio di Daniela Braccani non c'è nessun'altra alternativa per entrare a Palazzo Fibioni nuova sede del Comune dell'Aquila l'unica via possibile è quella delle scale d'ingresso non sarebbe un problema se non fosse che per persone con disabilità tra dipendenti comunali e cittadini interessati a raggiungere la casa pubblica l'impresa si fa ardua se non addirittura impossibile il carrello montacarichi posto alla base della scalinata che porta ai piani superiori del Palazzo Comunale di recente ristrutturato e riaperto non è funzionante e forse non lo è mai stata ma non finisce qui anche l'ascensore è chiuso ed inagibile questo significa che un disabile in carrozzella ad esempio non può proprio entrare tantomeno raggiungere i piani superiori ora al di là delle norme che impongono l'abbattimento delle barriere architettoniche dovremo interrogarci tutti dai progettisti ai certificatori fino agli esponenti dell'assise civica sulla funzionalità di un palazzo storico ristrutturato e riaperto al pubblico dove sono gli amministratori e i responsabili invece di indignarci tanto dietro al monitor di uno schermo dietro a questo o quella onda virale perché non riflettiamo sull'impossibilità per alcuni cittadini di vivere una città normale ed ora tra gli eventi domani a Loreto Aprutino come avviene da 65 anni torna l'antica Fiera della Madonna una manifestazione che un tempo era una vera compravendita di animali il servizio è di Antonio De Canati torna domenica prossima a Loreto Aprutino la manifestazione chiamata Fiera della Madonna giunta alla 65esima edizione la fiera che un tempo era una vera e propria compravendita di animali oggi è una rievocazione con la presenza delle razze bovine da carne e da latte all'interno spazio anche alla gastronomia locale con degustazione di carne bovina è proprio un impegno dato che quest'anno la Fieruccia cosiddetta Fiera della Madonna compie il 65esimo anno di età e quindi mi sembrava doveroso che la Proloco di Loreto Aprutino riprendesse in mano la festa ci saranno molti stand espositivi verranno degli animali ovini bovini volatili quindi tutto quello che riguarda appunto l'agricoltura e vi invito tutti quanti a intervenire domenica mattina alle ore 9 presso il piazzale Casa Marte ovviamente ci sarà anche la parte culinaria con un gazebo dove serviremo dei piatti insomma poi sarà sorpresa ecco vi invito a intervenire oggi è limitato rispetto agli altri due anni ad una sola giornata perché comunque ci sono state le difficoltà ma penso che a breve torneremo come era stato fatto negli ultimi anni quest'anno si stende il Sant'Alo Proloco in collaborazione con Chiappini Pasquale l'associazione epica di Loreto quindi cercheremo e stiamo cercando e ci riusciremo a mantenere un po' questa tradizione Passiamo ora alla pagina sportiva nell'anticipo della seconda giornata il Pescara ha battuto 2 a 1 il Perugia con le reti di Memushai su rigore e Caprari per gli Umbri in gol di Carmine Andrea Costantini Primi gol e prima vittoria in campionato per il Pescara serviva una risposta immediata dopo lo stop brusco di Livorno ed è arrivata davanti ad una buona cornice di pubblico e contro un Perugia tosto e battagliero felici le scelte in extremis di Massimo Oddo la Padula ha preferito a Caprari e il migliore in campo Memushai sigla il primo gol biancazzurro in campionato Caprari viene messo dentro e dopo pochi secondi chiude la partita una prestazione solida quella del Pescara specie nella parte centrale del match da rivedere qualcosa ma ci può stare alla seconda di campionato all'inizio e alla fine della partita debutto al centro dell'attacco per Cocco dentro anche Torreira e Verre Zuparic in difesa il tecnico perugino Bisoli vara un 3-5-2 con Delprete e Fabigno a presidio delle fasce e Lanzafame a supporto di Ardemagni il quale ha una chance sul cross di Salifu al 23esimo il Perugia riparte bene contro un Pescara a contratto a sciogliere i biancazzurri e la Padula l'attaccante torinese al 27esimo scuote il palo con una pregevole tutt'altro che semplice conclusione Mancina l'azione prosegue con Verre che centra per Cocco che incorna alto il legno colpito dall'ex Terramano è il preludio ad un vibrante finale di tempo soprattutto è il preludio al gol del vantaggio biancazzurro alla mezz'ora Mancini stende da dietro Cocco il centramatti sembra precedere di un soffio il difensore prima di essere atterrato dagli 11 metri Memuschai trasforma di precisione il vantaggio è ulteriore carburante per il Pescara che va ancora vicino al gol con un'azione tambureggiante finalizzata dal rasoterra di Torreira Rosati respinge replica ospite con il traversone di Delprete colpo di testa di Ardemagni fuori di poco la Padula ha il sinistro torrido e scaglia due fendenti respinti dalla difesa il primo da Rosati il secondo Bisoli cambia ad inizio ripresa Parigini per Mancini Perugia più offensivo e che per poco però becca il gol di uno degli ex al lato la conclusione di Valerio Verre al quarto proprio Parigini ha una ghiotta opportunità ma si fa ipnotizzare da Aresti che poi trema sul proseguo dell'azione quando Ardemagni anticipa tutti ma non inquadra la porta girandola di sostituzioni da parte dei due tecnici quella giusta la azzecca Oddo alla mezz'ora fuori un esausto cocco dentro Caprari che al primo pallone toccato fa centro perfetto l'assist di Lapadula per l'attaccante romano che davanti a Rosati non sbaglia e poi si sfoga verso quei tifosi che lo avevano beccato all'ingresso in campo i compagni lo coprono Caprari subito dopo abbraccia il suo principale stimatore Massimo Oddo nel primo dei quattro minuti di recupero un rimpallo fortuito tra Crescenzi e Zuparic agevola la marcatura di Carmine ma la sostanza non cambia il Pescara in camera ai primi tre punti utili per lavorare con più tranquillità in vista di un calendario iniziale molto impegnativo e tra poco alle ore 15 la Virtus Lanciano sfiderà al Guido Biondi Lascoli per le ultimissime ci colleghiamo in diretta con il nostro Paolo Renzetti Paolo a te la linea Sì grazie Elisa buon pomeriggio dal Guido Biondi di Lanciano manca poco più di mezz'ora all'inizio di questa attesa sfida quasi un derby tra rossoneri e bianconeri tra l'altro partita questa che si è giocata pochi giorni fa inamichevole qui proprio a Lanciano con la vittoria della formazione rossonera per 1-0 ma il campionato è tutta un'altra storia sicuramente Lascoli è formazione che sta crescendo e nascendo in questi giorni con tanti nuovi acquisti e nuovi arrivati uno l'ultimo Giorgi giocherà direttamente dal primo minuto per Antonini e Cacia solo Pantina almeno per l'inizio della gara partita importante si prevede quasi il tutto esaurito qui al Guido Biondi di Lanciano oltre mille gli spettatori arrivati dalle marche andiamo a vedere subito Elisa le formazioni che sono appena arrivate in postazione 4-3-3 per il Lanciano che gioca con Arita in porta Pucino Aquilanti a Mente Mammarella in difesa Zeduardo Paghere Di Cecco a centrocampo Piccolo Ferrari e Di Francesco in attacco Lascoli risponde con il 3-5-2 Lanni in porta Mengoni Milano Vice Pelagatti in difesa Pecorini Giorgi Pirrone Adai e Almici a centrocampo in avanti Berrettoni e Caturano come detto gli altri due ultimi arrivati Cacia e Antonini siedono in panchina per una partita che si presenta sicuramente interessante con il Lanciano che dopo la sconfitta nella gara inaugurale di Vercelli cerca quest'oggi al Guido Biondi i primi punti della stagione per il momento è tutto qui da Lanciano a te Elisa Bene grazie grazie Paolo e buon lavoro e sarà depositato lunedì il ricorso del Teramo Calcio al collegio di garanzia del CONI contro la sentenza della Corte Federale d'appello ad annunciarlo i legali del Teramo Calcio che entro dieci giorni si costituirà anche contro il ricorso del Forlì che a sua volta aveva proposto appello contro la sentenza chiedendo la retrocessione di Teramo e Savona in D come deciso già in primo grado e che proprio ieri sera ha visto il CONI accogliere la sua istanza cautelare per la sospensione delle partite in Lega Pro dei due club fino al 23 settembre nel ricorso che sarà presentato lunedì il Teramo chiederà anche la sospensione in via cautelare delle partite dell'Ascoli salito in serie B proprio grazie alla esclusione del club bianco-rosso dalla serie cadetta e alla luce degli ultimi accadimenti che vedono la società bianco-rossa nuovamente in un clima di incertezza dopo l'ennesimo provvedimento della giustizia sportiva la dirigenza medita sull'imminente futuro precisando che continueremo a difenderci nelle opportuni sedi legali per veder riconosciuta l'assoluta estranità ai fatti ed avere l'affermazione della vittoria ottenuta sul campo quindi la società comunica che lunedì prossimo 14 settembre alle ore 15 presso l'hotel Sporting in Teramo si terrà una esaustiva conferenza stampa da parte appunto della dirigenza della Teramo Calcio e seconda di campionato per i rosso-blu fuori casa la parola d'ordine è fare più punti possibili in attesa del verdetto giudiziario vediamo il servizio Sanni De Francesco Mancini De Sosa Stivaletta Di Mercurio Maccarone Zandrini Savelloni Cosentini Mancini Bigoni Iannascoli Anderson Benzaia Perna San Domenico Piva e Triarico sarà questa la rosa-rosso-blu convocata per la seconda giornata di campionato di Lega Pro contro l'Arezzo la carovana che affronterà la prima trasferta della nuova stagione ha una sola parola d'ordine fare punti Una partita difficile come tutte le partite della Lega Pro perché comunque nessuno diregala niente tutti vogliono fare punti e soprattutto poi quando le squadre giocano tra le mura amica quindi ci sarà da soffrire insomma speriamo di affrontare con la giusta determinazione l'impegno Una squadra già incontrata in Team Cup che squadra starà ad aspettarvi tra le mura amiche appunto? Qualcosa ha cambiato ha preso qualche giocatore nuovo di questi credo che probabilmente due o tre probabilmente giocheranno domani e sicuramente come anche noi è cresciuta dal punto di vista fisico perché noi abbiamo fatto quella partita dopo appena dieci giorni una settimana di ritiro loro forse avevano magari una settimana in più adesso sono passati insomma qualche mese e quindi sicuramente anche le squadre saranno in una condizione fisica differente in più poi dopo diciamo è cominciato il campionato per noi sappiamo che è un campionato in salita perché comunque i processi incombono quindi dobbiamo fare abbiamo la necessità di fare più punti prima possibile e per loro comunque si devono confermare il buon campionato che hanno fatto l'anno scorso quindi sarà una partita sicuramente difficile andiamo in serie D domani alle 15 derby abruzzese al Bonolis di Teramo tra San Nicolò e Chieti esordio casalingo per il Giulianova contro il Matelica dell'ex esposito impegni difficili per la Miternina che riceve la corazzata a Campobasso e Avezzano invece sul campo della San Benedettese tornando al derby del Bonolis ascoltiamo nel servizio Epifani e Ronci Epifani prima casalinga domenica prossima derby con il Chieti già un bel calarsi nel campionato con una partita comunque sentita una partita sicuramente difficile ma come ne saranno tantissime quest'anno in questo campionato perché le squadre si sono rinforzate tutte è la prima partita in casa ci teniamo a fare bene e ci prepariamo veramente a fare una grossa partita quali miglioramenti si aspetta? a meglio sotto l'aspetto tecnico principalmente non dobbiamo sbagliare nemmeno possibile e dobbiamo lavorare bene in un possesso di palla perché incontriamo una squadra che gioca in una certa maniera con modulo difficile tra virgolette da incontrare però ci stiamo preparando bene cercheremo di fare una grossa partita Chieti che squadra giocherà con le ripartenze? Chieti è una squadra che è sicuramente forte che deve vincere deve cercare di vincere il campionato da quello che dicono e noi dobbiamo fare il nostro onesto campionato dobbiamo cercare di fare bene quindi la prendiamo con le molle la rispettiamo però non abbiamo paura assolutamente del Chieti Donato Ronci il Chieti è partito bene la vittoria sull'Agnonese adesso però c'è il derby c'è il derby contro il San Nicolò ecco come sta la sua squadra? Stiamo bene stiamo bene abbiamo lavorato bene in questi giorni dispiace di non avere Dos Santos perché per noi è un punto di riferimento importante davanti ma sono sicuro che chi giocherà farà farà bene c'è entusiasmo c'è voglia di proseguire di dare seguito a questo risultato pur sapendo che affrontiamo secondo me una delle squadre più forti diciamo di questo girone ecco questa nuova società sembra aver dato un po' una spinta anche di entusiasmo in più tu come la vedi? ma sì basta vedere domenica allo stadio c'erano quasi 1500 persone il presidente ha una carica incredibile è riuscito a trasportare un po' tutti squadra staff tutti coloro che lavoriamo a fianco a lui nonché tutto il pubblico di Chieti quindi sta facendo veramente molto bene e vuole continuare a farlo ed è tutto per questa prima edizione della TG6 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti